E' un pazzo! Andiamo a cercare gli altri. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sammy chissà dov'è. Credo che sia alla banda. Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Ehi, guarda! Torre antincendio! Matt, che cos'è? Non lo so. Matt? Che pensi di fare? Che cosa possiamo fare? Stai calma. Calma. Sono solo cervi. Ci stanno solo osservando. No, 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 Matt. Ci faranno del male. Ok, ragazzi, passiamo in mezzo ai cervi. Con calma, eh. Ok, ragazzi, passiamo in mezzo ai cervi, con calma, eh. Ok, ragazzi, qui mantenete la natura in equilibrio e non fate nulla. Ok, ragazzi, qui mantenete la natura in equilibrio e non fate nulla. 2 e 21, ragazzi. Meno di 5 ore all'alba. Sono ancora tante, comunque. Per la prima volta abbiamo il controllo di Emily. Se riusciamo a parlare con qualcuno alla radio, gli diremo che ci serve aiuto. Che facciamo mentre aspettiamo? Torniamo alla baita e raduniamo tutti quanti. Oddio, non la baita. E' meglio restare qui. Magari potremmo ricevere altri messaggi via radio. Facciamo funzionare la radio. Giusto, e poi ci pensiamo. Eccola via radio. La torre radio. Uh, una luce di segnalazione. Oh, è accecante! Altro che... Non riesco a vedere che cos'è quello. Una luce di sicurezza. Attivata dal movimento, credo. Dunque, una luce di sicurezza attivata dal movimento. Saliamo queste scale. Matt rimane con l'Ascia a farci da guardia. Ottimo. Povero martire, veramente. Bravo Matt che hai abbandonato l'Ascia così. Io me la sarei portata dietro. Poi ognuno fa quello che vuole della sua vita, eh. Continuiamo a se riesca la fiora. No, no, non veniva a questo momento improvviso. Siamo quasi arrivati. Continuiamo a salire. Ottimo. Stai bene. Come vedete non c'è corrente, quindi usciamo all'esterno, perfetto, e qua troveremo la corrente ragazzi, il nostro salvavita, quindi apriamo, diamo energia, ecco la rabbia in funzione. Oh sì, cazzo, ecco! Ok, un punto per me e te d'emili. Ora, prima di rientrare, fate un giro di qua e troverete un'altra cassetta, eccola qui. Qua troverete la pistola lancia razzi, o meno i razzi di segnalazione. Allora, tenetela voi, non date la MET. Scegliete di non sparare, conservate il vostro unico colpo. Poi vi spiegherò perché, anche se il totem mostrava di dar la MET. Allora, qui potremo premere questo pulsante. Perfetto, e otterremo un fax che reca appunto un manifesto di missing, un manifesto di scomparsa. Hai visto questa persona? Bette Washington. Bette Washington è stata vista l'ultima volta nei pressi della baita da sci di Blackwood Pine, Salberta, tra le 1,30 e le 2,30 del 2 febbraio 2014. Improbile stato di eccitazione. Bette indossava una giacca imbottita rosa, chiara, leggings neri, scarponi da neve e un berretto bianco di lana. L'altezza di 1,72 per 50 kg di peso. Occhi castani, capelli castani. Se puoi aiutarci, devi chiamare quei numeri. Perfetto, ragazzi. Dunque. Inoltre, vedete che questo è stato arrivato dopo, nessuno l'aveva stampato. Originariamente, se guardate in questo armadietto, c'era già il manifesto della sorella, di Anna. Ciò che cambia è solo che indossavo un top nero, jeans scuri, stivali di cuoio marrone. Non indossavo una giacca. In effetti, nessuno sapeva che poi la giacca era stata data da Beta, da Anna. Porta gli occhi a un tatuaggio sulla spalla destra, appunto, della farfalla. Tutti il resto è uguale all'altro documento. Ok, tempo di usare la radio, ragazzi. I nostri collezionabili li abbiamo presi. Tutti, penso, qua. Ok, giriamo. La frequenza. Guardia Parchi della Contea di Blackwood, passo. Pronto? Mi sentite? Ehi! Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto. Passo, passo! Per te. Bruto? Oh mio Dio! Grazie a Dio! Ci serve aiuto, presto! Bruto, state cercando di contattarci. Servizio Guardia Parchi della Contea di Blackwood. Non mi dicevo molto bene. Parlate lentamente, in modo chiaro. Passo. Per favore, per favore, oh mio Dio! Siamo bloccati sulla Blackwood Mountain! E c'è un maniaco qui! Se riservete, ripetete il vostro messaggio. Non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, presto! Pronto? Potete identificare il passo. Povero mattire di Matt, come soffre là dietro. Allora, a seconda, il mio nome è Emily. Anche se riescire a red, eh? Siamo... Il mio nome è Emily. Pronto? Non mi dicevo in modo chiaro. Ripetete, passo. Siamo sulla Blackwood Mountain, vicino alla Baide. C'è un killer qui. Ci sta dando la caccia e ha già ucciso uno dei nostri amici. Oh mio Dio, dovete aiutarci, per favore. Qualcosa ha attivato il sensore di movimento. Sarà stato un cazzo di certo. Sì, signorina. Non allontanatevi da lì. Manderemo il primo periodo recuperarvi. Quando la tempesta si sarà calmata. Passato. Cosa? Quando? Quando verrete? Oh mio Dio, Emily, vieni a prendermi! Oh mio Dio, vieni a prendermi! Cosa è succedente? Cosa è l'ora? Oh mio Dio! Cazzo! Stai bene! Oh mio Dio, che cazzo stai? No! Emily! Dameli! Cazzo! Cazzo! Porca puttana! No, no, no! No, no! Oh, merda! No, no! Quindi ragazzi, il nostro seguitore ha tagliato il tirante dalla torre e ci ha fatto precipitare. Mancano quattro ore e un quarto all'alba, se ho letto bene. Merda! Oh, Matt! Matt! Oddio, Matt! Aiutami, ti prego! Arrivo! Arrivo! Emma, questa roba è molto instabile! Matt! Devi fare qualcosa e devi farlo ora! Che cosa stai aspettando? Sto pensando! Lasciami pensare! Non pensare, idiota! Tirami via da qui! Adesso gli occhiediamo. Per questo, Mike, ti piace ancora? Lui è un pensatore! Matt! Io non... Ti ho vista con lui! Cazzo, Matt! Stavamo solo parlando! Oh mio Dio, questo non è il momento! Tu e Mike? Avete chiuso! Hai capito? Sì! Sì, ho capito! Ora, Sam, non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre! Ti prego, Matt, fai qualcosa! Allora, scegliete di saltare al sicuro, ragazzi! Devo saltare! Matt! Gesù! Sto soltanto! Cercando il modo migliore di aiutarvi! Tirami fuori di qui, idiota! Idiota! Io salto al sicuro, poi se c'è tempo la salviamo! Eh, precipitata! Tanto quella maledetta è ancora viva, eh! Non pensate! Mica è morta, eh! Non era di sopra? Non so, non l'ho vista! Deve essere scesa qui! E neanch'io l'ho vista! Ok, siamo nella baita dei Washington. Ah! È successo davvero! Che cosa sta succedendo qui? Lì c'è ancora la foto che avevamo già visto, mi pare, quindi possiamo scendere. Cosa c'è? Chris, volevo solo dirti quello che è successo nel capanno. So quanto è stato difficile, Josh era tuo amico! Ashley, basta! No, voglio dirti... Grazie, grazie per avermi salvata! Eh, se cosa potevo fare? Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Non potevo. Qui abbiamo una foto di Josh con le sorelle. State proprio bene insieme, è datata ad agosto del 2013. dopo ferragosto del 2016, quindi... Sì, solo che... Sai, tu e Josh eravate amici, Chris. Troviamo sempre e basta, ecco, ecco... Guarda qua! Chris, cosa è successo qui? Chris, cosa è successo qui? Beh, non sono un esperto, ma direi che è stato lanciato. Ok, siamo ai comandi di Ashley. Siamo ai comandi più che altro di due ragazze in questo episodio, quindi un episodio di tutti in rosa, potremmo dire. Ah! La porta ora sarà ovviamente chiusa. È davvero inquietante. Molto inquietante, ragazza mia. Però è carina quando si spaventa Ashley. Aspetta! Hai visto anche tu? Hai visto cosa? Quello, Chris! Quello! Cosa sarebbe quello? Sembrava... Sembrava una figura trasparente, come un fantasma! Sì, ciao! Sono seria! Perché non mi credi? Ho visto quella cosa! Non conta niente per te! C'è l'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi. La mia mente è a pezzi. Non mi fido neanche di quello che vedo io. No, ti sbagli! L'ho visto! E ne sono certa, Chris! Va bene, va bene. Forse... Sì... Forse hai visto qualcosa. Cerchiamo... Cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo! Sam... Sam può essere soltanto qui, Ash. Se solo andassimo a chiamare gli altri e... E se Sam fosse nei guai, se ne servisse aiuto! Oddio! Andiamo! Ok. Allora, quando giochiamo con Ashley e Chris, come vedete la teoria del poltergeist è sempre più attiva. Nel senso che continuiamo sempre più a convincerci del fatto che ci sono poltergeist. con la tavola Ujja ci ha contattato. Abbiamo guidato... Siamo andati in libreria e abbiamo trovato il pulsante segreto. Quasi come se un'entità, una figura... straba... Ehh! Come sei carina quanti spaventi esce! Una figura spettrale ci stia dando degli indizi. bravo scherziamo guardate qui c'è un quadro di una casa io non mi immagino le cose beh beh ho visto cose anch'io ho visto cosa è successo a Josh del Capanno ed è quello a preoccuparmi oh Chris lo so sai cosa mi preoccupa mi preoccupa Sam se c'è davvero un pazzo qui potrebbe essere morta anche lei non dirlo nemmeno ti prego Chris qua è la strada da qui è scappata Sam aspetta Chris 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 il fantasma non l'hai visto no perché giocavi col cellulare stupido stavi twittando hashtag c'è un bel fantasma che ci dà la caccia calmati ok qui non c'è alcun fantasma e di chi poi sei solo solo sconvolta per quello che è successo a Josh sei tu che non eri attento l'ho visto ho visto un fantasma e sembra vanna aspetta 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 cosa o forse Beth che ci abbiano seguito dopo la seduta spiritica non lo so forse non è così perché i fantasmi non esistono ok ok chi parlava alla seduta spiritica allora Chris non lo so il quadro è volato via avete notato come fa un quadro a saltare via così dal muro perché è stato un fantasma pure te non ci arrivi c'è una chiave bene mettiamola via guardate cosa fa il fantasma oh mio dio là guarda là Chris non dirmi che non l'hai visto lo vedi lo vedi io no io non so è una follia ci stava indicando qualcosa ci stava indicando qualcosa esatto ci sta mostrando una casa delle bambole è incredibile la stessa del quadro si vede dalle finestre si vede cosa? mini mobili? no eccomi una scena con bambole in tutto sì ecco dove va la chiave che ti dicevo il fantasma vuole aiutarci wow 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 cosa sta succedendo? oddio eccomi non eccomi niente siamo noi nascosti ad aspettare Anna l'anno scorso ma è così preciso io ero seduta lì e là è dove stava Matt questo è opera di qualcuno che era lì o di qualcuno o qualcosa che ci osservava forse è un avvertimento forse forse qualcuno l'ha messo qui per confondersi no deve essere il fantasma vuole dirci che il pazzo ha ucciso Anna e Beth credo che sia questo bastardo sta cercando di farci uscire di testa perché avrebbe dovuto fare questo Chris? sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti e adesso abbiamo trovato qualcosa guardate potrebbe essere il diario di Anna esatto Ash sfogliamolo la mamma è d'accordo ho spedito gli inviti la festa si farà odio dover aspettare per ora Ash, Matt e Sam hanno detto di sì ancora nulla da Mike Mike ha detto di sì ha chiamato Josh oggi pomeriggio stare tutti insieme qui in montagna sarà fantastico farò e poi fare il bagno e oh mio dio Mike sono così ansiosa di stare con lui non posso leggere è troppo triste Chris vedete? devo smettere con questa ossessione ma sostanzialmente lei non ci riusciva perché era proprio innamorata di Mike la porta si è aperta c'è qualcosa avanti ok oh Chris Chris però tu lo hai visto Chris davvero ho visto qualcosa ma dove è andata spostiamo una videocamera una videocamera una videocamera Chris credi sia quel pizio avrebbe senso credo non amo essere osservata meglio brava brava esce brava esce dunque Oh, le forbici Queste ci verranno utili a breve Effetto farfalla aggiornato C'è qualcos'altro lì da prendere Ah, la testa del bambolotto Ah, scarafaggi Dobbiamo, Ash Questa sembra zona in cui è scappata Sam Qui è dove si è buttata giù Sam, vedete? È il luogo dove si era nascosta Ah, possiamo parlare con Chris Io credo di non farcela più Sì, anch'io ormai sono al limite Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso Dire il vero Non so, Anna, che volesse fare Sì, beh Sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno Bene, così in pratica mi stai dicendo Che abbiamo messo una nostra amica fragile In una situazione terribile Che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla L'abbiamo ridicolizzata Se fossi stato tu Non credi che saresti scappato A chi piace essere preso in giro? La gente non mi prende in giro Direttamente? Eh? Chris L'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici E al ragazzo che le piaceva Non riesco a immaginare niente di peggio Sai cosa? No Esh Ne ho abbastanza Non voglio addentrarmi ancora in questo maledetto incubo Esh Ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato Ma se Sam è laggiù sola Con un pazzo Come possiamo Andarcene? È come se la uccidessimo noi Per una volta non stiamo con la community Facciamo Facciamo che abbia davvero paura, lei Lo so, lo so Solo Non credo di farcela Già, siamo nella merda Ho tanta paura, Chris Anche io Ma Sono con te, ok? E tu sei con me? Certo Ma no, dai Potevo ambaciarsi Su Bene Direi di muoverci, allora Ok Non ci avrai più un'occasione così, caro Chris Ok, parliamo con Chris Chris Ho una sensazione davvero molto strana Cosa intendi? Tutto questo non ha senso Cosa non ha senso? Tutto questo Lo psicopatico Le follie che accadono qui sotto Temo che ci sia sfuggito qualcosa Qualcosa che colleghi tutto quanto, capisci? Capisco cosa vuoi dire Ma, cioè Non sappiamo cosa sia Sì Hai ragione Proseguiamo Ecco, qua c'è un altro indizio, ragazzi Che batterie Forse servivano a dare Elettricità, vedete, alle luci E famose luci che avevano Autonomia di 5.000 ore Vediamo di qua No, è chiusa Niente, possiamo proseguire in questa direzione Portiamo la nostra Ash davanti a noi Oii, siamo nel covo del maniaco Segue circolari Uncini Insomma C'è di tutto e di più qua Oh, cazzo Credi che questa roba Sia sua? A meno che gli Washington Non avessero passatempi bizzarri Direi Sei, forse Ok, di qua Oh, no Non è possibile Ora vomito Questo non è da mangiare Perché diavolo è qui? Ecco Un maiale Sventrato, ragazzi E ripulito dalle viscere Non fate battute sul porco Perché io so già Quello che state pensando Ecco Dunque Sam, Mike Ashley, Chris Josh E Ashley No, Emily Scusate Manca qualcuno, ragazzi Manca Matt E chi manca Anche Fatemi pensare Cos'è questo? Manca anche Jess Cazzo Come mai ne mancano due Però Emily Avete visto Aveva Le due croci sugli occhi Come se fosse la più odiata Come nel test Che ci aveva proposto Il Il Lo psicologo E come avete visto Nella fine Dall'altro episodio Ben o male Lui sta analizzando Lo psicopatico Se abbiamo capito bene Ehi Oddio È dell'anno scorso Pensate che sia un po' scherzo un po' bene Quello stupido scherzo Non è Non è un po' imparazzante Non l'avevo mai visto Lei è così 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 emozionata Così viva Non sospetta nulla Oddio Oddio Wow Non ti ricordavo Così È orribile Mi sento uno scherzo Fatevi schifo Tutti e due È quella La parte peggiore Era soltanto uno scherzo Doveva essere divertente Non voglio rivedere più Questo film Mike Chris 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 Cosa sta succedendo Ash Ash Calmati Ok Non ce la faccio I fantasmi E questo filmato E tutte le cose che volano in giro Calmati e ascoltami per un secondo Per quale motivo dovrei calmarmi Sto impazzendo dalla paura Qui c'è qualcuno che ci sta prendendo in giro Cosa Pensaci I fantasmi non usano le telecamere Non fanno questi giochetti Allora che c'è dietro tutto questo Dico sul serio Dimmelo Non lo so Forse è la stessa persona che ti ha legato E ha ucciso Josh Giusto La stessa persona che potrebbe avere Sam Proprio ora Forse hai ragione Vorrei non averla Perfetto In questa stanza Non c'è nient'altro da vedere O prendere Direi di no Perché allontanandosi la telecamera Sembrava quasi Che ci fosse qualcosa Vedete Invece no È solamente un effetto scenico Proseguiamo di qua Di qua Non c'è nulla Quindi proseguiamo Oh merda Guarda là Sangue Forse è di Sam Vediamo se si apre Dai Fatto ma Questa cosa è pesante Stai attento Devi passare Es Non riesco Presto Chris Ma cosa Credo di aver visto Sam là Es Sei sicura Lo so Però dobbiamo controllare Io dico che chi sanguinava È passato di qua Ok Per cui andiamo Ora Allora Indaghiamo su un movimento Facciamo una cosa diversa Dalla Comunità Potrebbe essere Sam Però siamo chiusi Per cui andiamo Ok ragazzi Il psicopatico è qua Con noi Ok 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 Mi hai spaventato a morte Non era mia intenzione Oh scusami tanto Ehi mi spiace ok Ora calmati Ora abbiamo problemi più gravi Che intendi Lo psicopatico Chris L'ho appena visto Cosa Dove Dove è andato Non lo so Ma dobbiamo fare piano Deve essere ancora qui Nei paraggi Fantastico Sam Ok La voce di Sam Ragazzi Oh Chris Ha stordito Ha stordito Ha stordito Chris Ma siamo stati cazzo Ma siamo stati catturati Oh merda Oh merda Io non sono pronta Di essere vissuta Cosa vuoi dirmi Chris Che cazzo Sì cazzo Avrei dovuto dirtelo Chris Chris Ashley, ti salverò, non ti lascerò a morire Salute a voi, mie piccole cavie speciali Ho paura, Chris Non è bella paura Oh, invece dovresti esci Perché ecco il colpo di scena Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi E ora dovrà farne un'altra Chris, puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley Oppure puoi sparare a te stesso Quello che rimane, resta in vita La scelta, è tutto tua Non essere sciocco, Chris Ok ragazzi, abbiamo il comando di Chris Oh mio Dio, no, no, Chris Criss, basta No, no, Chris Ah, io non vi ho appuntato No Criss, oh mio Dio, no No, oh mio Dio No, basta Criss, ah, no, no, basta Oh mio Dio Facciamo il Oh mio Dio Il gentleman No, no, Chris E diamo la nostra vita муз gone Ti sei spinto troppo oltre. Non lo capisci? Non capisci che questa orgia di torture è durata anche troppo? Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa ti rende così speciale? Sei malato! Sei un pazzo malato! Che cosa diavolo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Psicopatico. Psicopatico. Pinseson. Chiusura. defence. Ho. Grazie. Phono.